Yu-Gi-Tutti ragazzi, qui è Cappello di Paglia e benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare Magic Corner, il mio sponsor, dove col mio codice sconto 2022 Cappello potete ottenere un 10% di sconto su carte singole o prodotto sigillato, che non sono soggette a altra offerta. Inoltre immancabili i link di Instagram e Twitch, dove quasi tutte le sere alle 21.30 streammo. Ragazzi, se che subate potete vincere sto cazzo del Playmas, quindi sfruttatelo sto Prime. Detto questo, procediamo. Lo scorso 3 aprile, sul canale TV Tokyo, è stato mandato in onda il primo episodio del nuovo adattamento anime intitolato Yu-Gi-Oh! Go! Rush. È prodotto dallo studio di animazione Bridge e coprirà tutta l'ottava stagione di questo brand. Partiamo analizzando l'opening e l'ending. Per quanto riguarda la prima, non sono riuscito a trovare il filmato completo, ma solo il sonoro. E la canzone utilizzata è intitolata Shinkiro Mirage, affidata alla rock band Frederick. Invece, per quanto riguarda l'ending, durante la parte finale del filmato possiamo notare dei personaggi nuovi che non appaiono in questa prima puntata. Mentre, per quanto riguarda la canzone, è intitolata One Way ed è invece affidata al cantautore Yuzuke Saeki. Se volete ascoltarle, ve le lascio qua sotto in descrizione. Questo primo episodio è molto semplice, in quanto è strutturato come un enorme tutorial su come si gioca a Rush Duel. La storia inizia con la presentazione dei due gemelli, Yui e Yuamo, a casa loro. Quest'ultima, dalla finestra, nota volare in cielo un oggetto misterioso che atterra nei pressi della loro città. Il giorno dopo, i due si dirigono in esplorazione, alla ricerca di maggiori informazioni in merito all'evento della sera prima. Arrivati nella zona di atterraggio della navicella, i due riescono a introdursi all'interno ed entrano in contatto con la creatura aliena chiamata Yudias. In parole povere, da qui in avanti, possiamo vedere Yui sfidare a duello l'alieno. Per riavere indietro l'Earth Damer, oggetto che noi non conosciamo e che ovviamente lui non ha. Yudias accetta la sfida, ma poco dopo i due ragazzi si rendono conto che anche se la creatura possedeva dei pacchetti di carte di Rush Duel, non sapeva assolutamente come funzionasse il gioco o che forma avessero le carte. Da questo momento in poi inizia il tutorial. L'episodio si conclude con la vittoria di Yudias e lui che decide di unirsi alla loro associazione anti-alieni per imparare meglio a giocare a questo gioco. Allora, parliamo adesso dell'episodio senza doverlo distruggere completamente. Partiamo dalla motivazione per cui Yudias vuole venire sulla Terra per imparare a giocare al Rush Duel. Vi leggo adesso il dialogo tra lui e Yuamo. Allora, parla Yudias. Quando siamo stati cacciati dalle nostre case, non sapevamo dove andare. Siamo venuti a conoscenza di una leggenda che ha predetto i Rush Duel e che potrebbero guidarci verso un nuovo futuro. Yuamo ovviamente risponde e gli dice Bro, ma... Che cazzo dici? Yudias le risponde Non lo so. Va bene. Tuttavia, una comprensione più profonda dei duelli potrà fermare il conflitto nel mio sistema natale e portare la pace. Allora, già questo è strano. Ma capite anche voi che senza un'immagine della profezia o altra informazione risulta tutto molto strano. Soprattutto perché Yuamo, per spiegare a Yudias cosa siano i Rush Duel, gli dice che sono un gioco per bambini che gira all'elementari. Senza considerare che poi in Yu-Gi-Oh 7 Rush Duel sostituisce il gioco normale e quindi non possono esistere leggende antiche di alcuna sorta. Inoltre, altro elemento che non mi hanno dato proprio giù è il fatto che nel primo episodio si è dovuto ribadire di nuovo come funzionasse la meccanica. Quando poi in Seven non è servito. E comunque guardando l'episodio era tutto più che comprensibile. Detto questo, spostiamoci su quello che mi è effettivamente piaciuto. Allora, ho apprezzato il character design dei vari personaggi, anche se i gemelli sono sempre troppo piccoli. Ma vabbè, ci ho perso le speranze. E Yudias per adesso è il mio prefer, perché mi ricorda molto Nonno Rick di Rick & Morty. Altro elemento carino sono state le gag. Ad esempio, quella dei pacchetti e quella della pescata. Diciamo che mi hanno strappato un sorriso. Tirando le somme, non è un anime che arriva alla sufficienza. Anche solo per il semplice fatto che durante il duello, Yui setta tre carte coperte. E risultano essere tre carte totalmente inutili. Partendo dal fatto che non è una cosa che si è mai vista in un anime di questo tipo. Ok, so che tutto questo rende il duello più veritiero, più simile a quello che è il gioco reale. Però a quel punto perdi tutto l'hype e non ci credi neanche più in una possibile giocata incredibile. Prima di concludere, voglio soffermarmi su un ultimo aspetto. Nel corso degli anni, un elemento distintivo dei vari protagonisti era simboleggiato proprio dal nome. Tutti iniziavano con Yuu, in quanto era un carattere distintivo che simboleggiava la superiorità. In questa serie, tutti e tre i personaggi lo hanno. Che vorrà dire? Avremo tre protagonisti fortissimi alla pari? Oppure l'unico vero è Yudias, in quanto ha rivelato quella che sarà la carta più forte del suo mazzo? Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate e se lo seguirete o meno. Ovviamente con il procedere degli episodi proverò a portarvi altre recensioni, anche solo per capire dove vogliono andare a parare. Quindi ragazzi, per adesso state me easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!